Problemi su COD? Problemi su COD? Ma che ci vuole? Aaaaaah! Aaaaaah, ma che c***o! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17, ragazzi! E allora, sapete che avete cercato questo video scrivendo o problemi con COD Warzone oppure altri tipi di problemi come risolvere errori, ad esempio quando avviate il gioco e non parte, oppure quando avviate il gioco e avete dei grossi problemi, ad esempio certe volte mancano dei file o certe volte quando fate gli aggiornamenti. Ok, il metodo è molto semplice, non c'è bisogno di scaricare programmi oppure inserire altri tipi di file che potrebbero danneggiare il vostro PC, Quindi il metodo giusto è quello di andare su battle.net che è Breezart, che è questa l'applicazione per avviare COD. Ok, allora, una volta aperta, una volta aperta l'applicazione basta andare su opzioni e andare direttamente su analizza e ripara. Ok, io non lo faccio perché non vorrei aspettare un'altra mezz'oretta perché ho avuto alcuni problemi con COD perché usciva quel tipo di errore, quella X, errore qualcosa del genere, mancava e quindi ho risolto facendo analizza e ripara, smanettando un po' sull'applicazione. Quindi il metodo è questo, per questo battle.net ti dà anche la possibilità di analizzare il vostro gioco e ripararlo inserendo altri tipi di file, tipo elimina un giga di immondizia una volta aggiornato il gioco e poi con la riparazione sostituisce quei file. Quindi ragazzi, che dire, è tutto per oggi. E ci rivedremo, non lo so, tra una settimana, due, tre, oppure qualche giorno, però quello che vi voglio dire è che se siete interessati a questo canale iscrivetevi con campanellina. Se vi piace il video lasciate un bel like. Se avete problemi non esitate a commentare. Quindi detto questo io vi saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.